E arriva oggi una novità per l'ospedale Martiri del Villa Malta di Sarno, una delle proposte dell'atto deliberativo dell'Aggiunta del Sindaco Giuseppe Canfora. Diventa un atto deliberativo della Direzione Generale dell'Asile ed un progetto sperimentale che partirà proprio da Sarno. Il supporto all'ospedale, in particolare al pronto soccorso, arriva grazie all'impiego dei medici dell'USCA. Il Direttore Generale ha fatto sua una proposta che è venuta dall'Aggiunta e aggiungo una proposta che abbiamo anche condiviso con i sindaci dell'Agro, con i sindaci del presidio ospedalieri di Pagani, di Sarno, di Nocera e di Scafati. Quindi i quattro sindaci e anche una proposta che ho elaborato meglio ma che in effetti già in conferenza dei servizi dei sindaci era venuta fuori. Ma insomma vedo che in questi momenti in cui veramente c'è una penuria di colleghi e certamente non è che li possiamo clonare, dobbiamo avere pazienza e dobbiamo utilizzare al meglio tutto ciò che in questo momento c'è di positivo e di propositivo come l'USCA. Noi sappiamo bene che i colleghi dell'USCA che hanno fatto un eccezionale lavoro, proprio il 30 giugno finirà il loro incarico. Quindi per quale motivo dopo queste prestazioni che hanno fatto con i vaccini, con la diagnostica, ma per quale motivo non utilizzare la loro intelligenza, la loro preparazione e soprattutto anche le loro specializzazioni, perché ci sono anche ragazzi che sono specialisti e che si stanno specializzando, perché non utilizzarli con un contratto, con un contratto a tempo determinato in questo momento, con un contratto nei pronto soccorsi dei nostri ospedali, partendo da Sarno. Oggi io mi auguro che siano tantissimi che vogliono collaborare, sia da un punto di vista etico e sia da un punto di vista professionale aiutando i nostri concittadini. È un progetto sperimentale, quindi veramente poi ringrazio il direttore generale, ma è un progetto sperimentale che parte proprio da Sarno. Io aggiungo, ma tutto questo serve soprattutto per far sì che le unità operative complesse, mi riferisco al nostro ospedale, e le nostre eccellenze, a partire dalla medicina, alla cardiologia, alla gastroenterologia, alla chirurgia, cioè alla stessa ortopedia, perché io mi auguro che possa riaprire l'attività chirurgica quanto prima e voglio ricordare che entro il 15 giugno si dovranno fare i concorsi. Il nostro direttore generale ha bandito concorsi per 70 posti, 58 posti di medicina generale più 18 posti per l'ortopedia. Quindi io mi auguro che oltre i 70 ne concorrono 200 di medici e probabilmente li potremmo utilizzare tutti e 200. La parola d'ordine è difendere l'ospedale e dire che il nostro ospedale resterà aperto, abbiamo dei riparti di eccellenza, a partire dalla medicina sono tutti riparti di eccellenza.